Perché ha lasciato Milano? Perché è troppo piccola, perché è provinciale, perché il soffitto è troppo basso. Sono venuto a New York pensando che il soffitto fosse alto. E ho scoperto che a New York il bello è che il soffitto non esiste. Noi lavoriamo in tutto il campo del design, dalla segnaletica per le subway alla segnaletica per gli aeroplani, piuttosto che agli imballaggi di un vino. Sempre con questo desiderio di portare un certo tipo di eleganza intellettuale alle masse, al pubblico. L'importanza della carta stampata è finita, perché la comunicazione digitale ha preso il posto, praticamente. Il computer ha preso il posto. Si fa talmente di più, talmente meglio. E' ridicolo pensare che ci siano ancora i libri. Libri, questi oggetti statici dove un'immagine rimane lì ferma e uno deve girare la pagina prima di trovare un'altra. Quello che non è finito è la grafica. La grafica, anzi, esiste ancora di più. Quello che noi abbiamo fatto in praticamente 50 anni di grafica è preparare il terreno per queste cose qua, in realtà. Prima che riuscisse l'Elvetica, per esempio, bisognava tagliare lettera per lettera, perché le distanze tra le lettere erano troppe. Noi volevamo avere una visione compatta delle parole. E quindi si tagliava un lavoro da bestia. La grande invenzione dell'Elvetica è stata quella di fare i caratteri che avevano le spalle molto piccole, per cui si potevano mettere caratteri vicini. Ora, nel 1965, quando sono in America, avevano già fatto un sacco di cose, tantissime cose, usando questo carattere e facendolo cantare. E per cui non esisteva il carattere. Erano su altre strade, non esisteva questo linguaggio. Siccome avevamo, quando siamo arrivati, tre uffici in America, uno qua, uno a Chicago e uno a San Francisco, quindi abbiamo distribuito in un colpo solo questo carattere attraverso gli Stati Uniti. Siccome le cose che facevamo sapevamo farle, hanno creato una serie di entusiasmi e una volontà imitativa, che è quello che si voleva. Abbiamo portato in sostanza la disciplina del design. Il nostro interesse è sempre stato quello di fare delle cose che diventassero linguaggio. Più entravano in diffusione, tanto più era un vicino al nostro desiderio. La barra nera sopra un testo, non ciò che servono per aggrappare il testo. Anche questa è una cosa che non c'era prima che arrivassimo noi. I giornali erano fatti in un altro modo. Quando abbiamo cominciato a fare il Herald, è stato il primo giornale al mondo fatto con una gabbia, per esempio. Quindi tutto modulare, dove i caratteri, i titoli, gli spazi per la titolazione, le immagini, gli spazi pubblicitari, tutto erano regolati da un sistema di gabbie compositivi. Oggi è il linguaggio comune. Siamo arrivati in un punto dove queste cose non succedevano in America. Quindi se fossimo arrivati oggi, non sarebbe successo niente. E l'interpretazione americana del marketing che è dannosa. L'interpretazione americana del marketing è quella di dare alla gente quello che vogliono. Questo è sbagliato. Bisogna dare alla gente quello di cui hanno bisogno. Perché Apple, Steve Jobs, ha un successo enorme, è diventata la più grossa industria del mondo, per dire. Perché non ha pensato di dare al pubblico quello che volevano. E se no stiamo freschi. Gli altri l'hanno fatto. Gli altri ci ha parato, come si dice a Milano. Gli altri ci hanno senso se sono fatti per scoprire i bisogni, non per scoprire le volontà del pubblico. Un conto è chiedere cosa che ti piace, un conto è chiedere cosa che hai bisogno. C'è la misinterpretation, come dico, la cattiva interpretazione del concetto di libertà. Libertà non è quello che si dice fare quello che voglio. Libertà è rispetto collettivo. Questa è una grossa differenza. In America, che l'ha inventata in un certo senso, purtroppo l'ha persa. So che voi avete sempre lavorato insieme. Sì. Perché la tua compagna, moglie, io la vita. La matita con quattro mani. Lavorare insieme vuol dire avere una piattaforma culturale share, come si dice. Condividere. Per condividere. Sì, condividere la stessa piattaforma culturale, in sostanza. E quello che vuol dire lavorare insieme, basta un'occhiata, eccetera, eccetera. La grande funzione della Leila è sempre stata quella critica. Mentre io faccio, io sono quella con la matita, evidentemente. Facevo una cosa, la Leila viene e dice non va bene, ma perché, 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 spiega per questo motivo. E allora dice no, ha ragione, è vero. Il preguantismo è in un certo senso anche un livellamento al livello più basso. È una delle tragedie che invece di essere livellato al livello più alto viene preso sempre al livello più basso. Il motivo fondamentale per cui questo avviene è perché la gente è interessata al denaro. Per far soldi, quindi ha bisogno della sicurezza, per avere bisogno della sicurezza bisogna che tutto venga percepito dalla maggior parte delle persone, da cui nasce il problema del marketing, quindi la paura di fallire. sono le malattie tipiche del capitalismo. Dalla matita io posso estrarre tutto quello che mi serve, mentre dal computer riesco solo a fare delle email e a guardare Google. È uno strumento fantastico che purtroppo non so usare. È uno strumento che sta cambiando tutto, ha cambiato già tutto, ma per esempio se guardiamo l'architettura è cambiata completamente da quando è venuto fuori il computer. Una volta poter fare, per fare delle cose di questo genere, era impossibile, non bastava estrapparci, non serviva niente, non si potevano fare, perché ogni pezzo è diverso dall'altro. Mentre oggi con il computer viene tutto trasformato, il computer fa andare avanti un'altra macchina che è tutta computerizzata, i signori possono andare al caffè perché tanto non serve a niente. Anche il controllo non serve, il controllo è meno, è tutto automatico e questi pezzi vengono fuori, già con il loro numero dove metterlo. Io non credo nel melting pot questa idea che i vari paesi del mondo vengono qua e si fondano. Il bello dell'America è proprio il contrario, che non si fondano. Il bello dell'America è che esiste questa continua interazione tra culture diverse, anche a livello genetico, proprio, per generazioni. E questo è quello che dà forza, vitalità a questo paese. Ogni giorno, a New York vengono pubblicati decine di giornali in tutte le lingue diverse, dagli svedesi ai russi agli ungheresi agli spagnoli agli italiani agli cecoslovacchi. Se vado a Milano, all'Angola, al giornale, non trovo il New York Times, non trovo tutti questi giornali di tutto il mondo ed è questa la matrice numero uno del provincialismo italiano ed è per questo che sono venuto via perché detesto il provincialismo. Quindi, detestando il provincialismo, quando si è trattato di fare un manifesto per celebrare gli Stati Uniti, ho celebrato proprio questa cosa eccezionale della plurietnicità caratteristica di questo paese. E quindi sono andato a prendere tutti i vari giornali e ho fatto una bandiera stampata in positivo e in negativo per poter fare bianco e nero. Ho fatto questa bandiera e l'ho mandata a Washington. Mandata a Washington e gli è piaciuto tantissimo, eccetera, eccetera, finché a un certo punto doveva arrivare, è arrivato un qualche generale del Pentagono che era in questa commissione. E poi lei cosa ha fatto? Ha cominciato a leggere gli articoli, no? Non gli sono piaciuti gli articoli che il precedente ha detto sì, sì, mi piace molto la bandiera ma chiedete a Vignelli di rifarla con degli articoli buoni. Figuriamoci, proprio a me. Io non sono mica andato a studiarmi il giorno cattivo. Ho preso un giorno qualunque che è capitato, sono andato la mattina e ho preso quello che si è. Era una fetta di salame, di questo grande salame che è dell'America. Per cui se uno sa disegnare una cosa in realtà lo strumento possiede il sistema per poter disegnare qualunque altra cosa. Naturalmente occorrono conoscenze particolari, specifiche su una tipografia, un tipo di conoscenza, l'architettura ne ha un altro, gli interni ne ha un altro, un oggetto ne ha un altro, però la disciplina che coordina tutte queste operazioni è la stessa. If you can design, you can design anything.